Ciao a tutti ragazzi, io sono Transaction95, oggi siamo qui in questo nuovissimo video per la seconda volta, un nuovo inizio su Brawl Stars Stavolta i ragazzi non è modato, però è normale, visto che è un fan, me lo ha chiesto Io nei commenti ho risposto di no, ma in realtà ragazzi, mi piace come idea, mi ricomincio a Brawl Stars normale Però raga, mi dovete, cioè, almeno se volete i video così e di Brawl Stars normale, almeno supportate il canale Io ve li faccio con piacere i video Tami, ho l'idea giurte! куteopri! u aufu la mia bagato Sì, non è vero, non è vero. ragazzi se senti devo morire sotto quanto è normale andiamo dai tra l'altro vedo anche che supportate il più minecraft ragazzi un po di brul star tanto che vado avanti con minecraft ok raga non so perché ma mi sta c'è mi da problemi di internet però è bugia perché come potete vedere ci sono 5 perché raga internet in questi giorni a tutti quasi tutti quanti sta dando tantissimi problemi ci vediamo quando si è ripreso ragazzi allora ok ragazzi quella parte non ve l'ho messo perché stava laggando tantissimo non dico poco ma tantissimo ok dobbiamo aprire anche questa qua non troveremo niente ragazzi ovviamente come sempre abbiamo scegli a livello 2 3 che ho altre potenzialmente e si ho altre potenzialmente l'ho potenzialmente ragazzi il video finisce qui spero vi sia piaciuto se così lasciate anche al video e condividete il video bella braga ecco 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 Grazie a tutti.